In una conferenza stampa il Comune di Pavia ha illustrato gli interventi effettuati al monumento ai caduti nella guerra 1915-18 in occasione del centenario del primo conflitto mondiale presso il cimitero maggiore in Viale San Giovannino a Pavia. Questo primo intervento in che modo ha aiutato a migliorare lo stato di salute del monumento? Ha migliorato su circa il 90% che non c'è più proprio infiltrazione di acqua. Hanno fatto qualche anno fa una sistemazione togliendo il vetro cemento che dava luce al sottostante basamento del monumento ma dopo qualche tempo l'infiltrazione è maggiore. Per ora questo intervento ha migliorato. Io sono stato giù solamente in due punti. C'è ancora proprio infiltrazione d'acqua. L'altro è stato sistemato secondo me in modo decente, molto buono anzi. Il cimitero maggiore di Pavia è anche un luogo che conserva opere d'arte? Sì, ha una storia il nostro cimitero e soprattutto dei bei monumenti. Noi ci impegniamo per cercare di fare il possibile per ristrutturarli, per quello che hanno bisogno, soprattutto adesso il monumento per la prima guerra mondiale, il monumento ai caduti. Quali sono le attività che svolge l'associazione Amici dei Musei? Dunque la nostra vocazione è quella di diffondere, di difendere e di migliorare il patrimonio artistico storico della città. Cioè offriamo dei nostri contributi per essenzialmente restaurare opere d'arte. Barbara ha citato poco fa alcuni esempi, non solo in musei ma anche fuori. L'esempio del cimitero monumentale è un esempio, come pure lo è, il restauro di un quadro della chiesa di San Salvatore, detto anche San Mauro. Come recuperiamo i nostri mezzi? Organizzando viaggi, viaggi sempre di carattere molto culturale. Cioè non andiamo al mare, andiamo a vedere musei, andiamo a vedere monumenti. Il ricavato, essendo la nostra associazione di promozione sociale sotto il controllo della provincia, viene tutto girato a queste finalità che vi ho detto prima.